Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Devo spaventare ogni sera. Venite fuori e andate a posto. Io trovo incredibile che una cosa del genere accada a distanza di ore, non giorni, ore, dagli esami. Hai ragione. Volete farvi buttare fuori dal collegio? Non c'è problema. No, assolutamente. Non voglio riuscire a fare l'esame. Cioè, almeno il provarsi si vogliono riuscire, ecco. Professor Zilli, appena succede qualcosa, quella persona passa direttamente dalla camerata, si veste e va. È chiaro? Certo, sì. La ringrazio, signor Presidente. Scusi, arrivederci. Arrivederci, scusi, signor Presidente. Inca... Comodi. Grazie all'intervento del Preside, il professor Zilli può continuare a dettare le sue regole, in un ambiente decisamente più calmo. Regola numero due. Studiare in gruppo. Prendersi una pausa ogni 37 minuti. Una pausa ogni 37 minuti è pure troppo... cioè, pure... È troppo, come tempo. Dormire almeno... 12 ore. 12 ore. 7 barra 8 ore, ma non più di 9. Signorina Tota. Dica. Di quante ore necessita lei? 14. 14. Sei tu davanti a una schiera di professori, quindi credi in te stesso. Signorina Brixel, dica. Io ad ogni interrogazione, anche se ho studiato due settimane consecutive senza staccarmi dai libri, ho ansia, proprio perché mi sento piccola. Si sente piccola? Si, non so come dire... vedo le cose troppo grandi e ho paura di non riuscirle a fare. Lei provi ad immaginarsi enorme e noi, professori piccolini, vedrà che lei avrà più fiducia in se stessa. Seguirà il suo consiglio. Zilli mi ha aiutato molto, perché al pensiero che io sono più grande dei professori, boh, mi tranquillizza. Non ha regola. Minzionare prima di tenere l'esame. Signorina Bruscia, che cosa significa minzionare? Urinare. L'atto di urinare. Anche se non scappa, il sec prima dell'esame bisogna farlo. Cioè, però quelle due costruire in più possono cambiarti la vita. Decima e ultima regola. Cancelli tutto. In grande. In grande. Festeggiare... Il fallimento. Dopo l'esame, ovviamente. Se ti va bene, festeggi perché ti va bene. Se va male, festeggi perché devi consolarti. Quindi festeggiare è la regola che mi piace di più. Tra un segno. Va bene. In bocca al lupo, in vista degli esami. Ti mancherà un sabato. È stato un vero piacere stare con voi. Non lo faccio così. No. A tratti. A tratti. E adesso, per l'ultima volta, arrivederci discenti. Arrivederci, signor professore. No, ce l'avete fatta l'ultima lezione. No. Arrivederci. Professor. È stato un gacere il professor. Arrivederci, vuoi essere carissimo. Si, però io non sono... Si faccia abbracciare. Non sono un albero. E voi dei koala, eh? Si faccia abbracciare. Io non abbraccio nessuno. Si faccia abbracciare. Forse sì. Altrimenti ne va della mia severità. Se lì mi mancherà, è inutile. Un albero così che regge e i suoi koala, mi mancherà. Uno di noi. Uno di noi. Uno di noi. Oggi è uno di noi. Uno di noi. Uno di noi. Grazie. Grazie. Alla fine, il segno che lascia un professore non sono le urla e i mille richiami, ma quanto mancherà ai propri alunni. è un cuore. Un cuore. È un cuore. Grazie a tutti